andiamo verso la conclusione di questo primo festival frequenza umana com'è andato è andato molto bene ci sono state tante presenze oltre le aspettative grazie ai nostri ospiti marco e pippo emiliano ottoso massimo cirri tantissime persone belle e ci sono stati delle grand bellissime presenze oltre agli ospiti i nostri track food dei nostri espositori e le associazioni del territorio yoga della risata una e la danza sbandus siamo fuori frequenza umana nasce spinta da quale esigenza allora l'esigenza in primis di offrire un punto di vista nuovo alle persone noi abbiamo cercato di unire le nostre competenze e le nostre passioni ed è nata frequenza umana il festival della gioia e sono stati due giorni bellissimi e tornerà il festival assolutamente sì siamo obbligate a rifarlo grazie buongiorno mattino buongiorno mattino